Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing Oggi andremo a utilizzare i nuovi progetti fai da te del Festival delle Primizie Quindi andrò a creare una stanza dentro la mia casa con i nuovi progetti E quindi vediamo un attimino cosa che riusciamo a creare Nel senso che stanza riusciamo a creare E vi ricordo che se non siete riusciti a sbloccare tutti i progetti fai da te dell'evento Festival delle Primizie Potete tranquillamente riscattarli oggi 27 novembre E ho fatto un video dove vi faccio vedere eventualmente come fare Quindi sotto in descrizione trovate il link oppure lo trovate sopra, non lo so, più o meno lo trovate qui Quindi direi subito di iniziare Allora questa è la prima stanza della mia casa È un po' così, prima c'era il muro manga quindi per questo trovate i robot eccetera Devo dire che questo muro montagne di Heidi mi piace Però vabbè andiamo a svuotare un attimino la stanza raga perché voglio creare una specie di salone Salone, sala da pranzo, una cosa del genere Il pavimento mi piace quindi probabilmente lo tengo Quindi muro Primizie Prima cosa che andiamo ad attaccare E levo un attimo i poster Poi eventualmente possiamo anche rimetterli Perché Cabraldo Ancora l'ho trovato raga Questo orologio brutto lo tolgo L'unica cosa che lascio è il citofono Ma tanto non suonano mai nessuno a casa mia Queste cose le potrei anche lasciare Vabbè per adesso le lasciamo Ok Poi andiamo a sistemare il tappeto Primizie È molto 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 carino il tappeto Primizie raga Mi piace molto e ne ho due, meno male Allora Mettiamolo, sistemiamolo bene Sistemiamolo bene No Se io lo giro Non cambia niente ovviamente Non cambia assolutamente niente Ok Credo che così va bene Mi resta da Mi restano da craftare gli oggetti E vedere un attimo come sistemare tutto Andiamo sotto perché ho il banco da lavoro giù Devo sistemare anche la stanza sotto Cioè in realtà tutte le stanze sono La sistemaretta Tranne la stanza di sopra Che è la mia Il mio studio Camera da letto per quanto riguarda YouTube Ma ci ho fatto un video Quindi potete andarlo a vedere Allora Sì al lavoro Vediamo cosa possiamo craftare Fuoco da campo Mi serve per fare il camino Se non vado erato Quindi assolutamente sì Crea qualcos'altro Andiamo a fare il camino Che è l'oggetto principale Finalmente Ho 30 pietre Perché mamma mia Sono in carenza di sassi Raga Allora Dove sei? Dove ti trovo? Dove sei? Mamma mia Eccolo Ok Cavolo Mi serve Uh Non posso fare questo Perché ho solo 30 pietre Quindi il piedistallo Rip Oppure potrei Non fare il camino Visto che il camino ce l'ha Mi faccio il piedistallo Mi sa che Preferisco non fare il camino Per adesso E andiamo a sistemare La stanza Dobbiamo creare una stanza carina Dobbiamo creare una stanza Molto molto carina Allora Io il tavolo lo piazzerei al centro Però Perché di lato Non lo so se mi piace Vediamo Poi in caso lo spostiamo Mamma mia Speriamo che Nintendo Mi toglie le foglie Mi mette I disegnini Perché non riesco mai A trovare niente Tavolo Ecco Allora Possiamo mettere così Oppure Possiamo Girarlo Tipo così Mi piace forse 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 di più Ok Andiamo a posizionare Le nostre sedie Sedia Peccato Manca una sedia Però poi vado a raccogliere Il materiale E completo l'opera Perché non mi piace Lasciare le cose a metà Ovviamente Perciare le cose a metà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa la mettiamo qui. E il quadro di fifonio io lo piazzo da questa parte. Questo lo posso scendere un pochino perché non mi piace così alto. Ok, è più basso. E il quadro di fifonio che non c'entra niente ma lo voglio mettere lo stesso. Non lo piazzo. Allora, abbiamo questo, il pandino, lo metto qua. Oppure faccio al contrario. Poi ando da questo lato. E cipresso qui. C'è questo angolino vuoto che non mi piace. A questo punto io utilizzerei l'arcolaio. E' l'unica zona che mi è rimasta vuota. E mi sa che mi conviene aggiungere quello. Se no, non ho un altro tavolino piccolo perché potevo mettere un altro tavolino col trofeo ma non mi piace. In realtà ci sono altre cose che posso craftare, raga. Però adesso meglio così. Ok, quindi mettiamo l'arcolaio. Oppure anche la valigia. Che fine ha fatto la mia valigia? Forse l'ho messa nella stanza con le cose. Ok, è abbastanza carina. È abbastanza carina. Molto, molto carina. Posso utilizzare queste così. Me le tolgo. E anche questo. Ad esempio, il quadro colorato lo piazzo qua. Bello grande. Poi queste le metto qua. Due. E tre. Ok, a questo punto. Vado a vedere solo se posso fare una cosa altrimenti no, niente, basta. Ok, lo posso craftare. Sì, perfetto, raga. Posso craftarlo. Quindi via, subito, arcolaio brutto. Ok, posso craftare due cose che mi possono servire. Anzi, solo una. Anzi, solo una. Solo una. È questa cavolo di luce. Solo una. Mi servono solo i minerali d'oro, ma ne ho a bizzeffe. Ho minerali a bizzeffe. Poi questa stanza sarà dedicata ovviamente al Natale, raga. Inutile che ve lo dico. Era scontato. Ok. Questa cosa con i trofei è perfetta, raga. È perfetta. Non posso aggiungere... Non posso fare altro. Non penso che mi basta tutto. Basta. Decisamente basta. Andiamo sopra e abbiamo quasi finito. Mi manca solo una sedia, ma... Prima o poi ci pensiamo alla sedia. Ok. Vetrina per trofei. Che dite? Ci sta perfettamente. Mi piace. Allora, raga. La nostra casa. La nostra stanza, più che casa. A tema, festia delle primizie. È finita. Ovviamente poi andremo a mettere qualche decorazione natalizia più avanti. E rendere tutto un po' più festivo. Perché è uno stile molto... Molto antico, diciamo. Insomma, quello che devo dire. Uno stile brutto, va. In sostanza, in realtà no. Mi piace. Mi piace. Ha un che di elegante, antico, allo stesso tempo. Non mi dispiace. Vi faccio fare un tour girando da questa parte. Queste sono le cose che ho messo al muro. La cosa con i trofei. Che secondo me ci sta perfettamente. Me ne ero pure dimenticata. Il quadro, eccetera. Beh, a me piace. Però, come sempre, consigliatemi qualche modifica da fare eventualmente. Vi ricordo che manca una serie, ma poi sistemo. Allora, fatemi sapere giù nei commenti, se vi piace. E soprattutto, cosa avete creato voi con gli oggetti del Festival delle Primizie. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, attivate la campanella, seguitemi su social. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.